Buongiorno a tutti, allora, quando mi ha chiamato Virginia per dirmi che dovevo, mi ha chiesto di fare questo intervento, mi ha detto, ti farò fare l'intervento subito dopo pranzo, quindi tienimeli svegli. Allora, per fare una prova per capire se è vero che siete svegli, vogliamo fare un applauso a Virginia Gambino, cortesemente? E già, e già, io sono sicuro però che siccome qua si è parlato di migliorare, no? Federico della Puppa ha parlato nell'ultimo slide, bravissimo, del miglioramento. Vogliamo farlo, vogliamo migliorarlo questo applauso? Un applauso a Virginia Gambino! Adesso sì, adesso sì, allora, adesso, scusate, posso? Eccoci, allora, intanto grazie davvero a Virginia per avermi invitato e grazie a tutti quanti voi che nonostante il pranzo siete qua per cercare di non addormentarvi, vediamo se ci riuscirò a non farvi addomentare. Il mio intervento è abbastanza semplice, nel senso che io oggi ho questo incarico di stimolarvi alcune riflessioni. Non ho nessuna pretesa di insegnare nulla, ma di stimolare alcune riflessioni che io faccio regolarmente ogni giorno quando faccio questa mia attività e incontro le rivendere, incontro voi da ormai 28 anni. Quindi, il titolo dell'intervento è Vendere meglio, vendere tutti. Mi ha fatto piacere che Federico della Puppa e anche qualche altro ha parlato proprio del miglioramento, migliorare in tutto, perché penso che la sfida di ogni imprenditore, che sia un produttore, che sia un distributore, la prima sfida è quella di migliorare le performance di vendita della propria azienda. È la prima. E vale per chi ha delle buone performance di vendita e vale anche per chi ha delle eccellenti performance di vendita. Tutti possono e devono migliorare. Perché facciamo un piccolo esempio. Si è parlato di KPI oggi, no? Facciamo un esempio. Prendiamo in esame una rivendita che ha un tasso di conversione del 100%, e parliamo di quasi utopia, ma facciamo finta che esista. Cioè, 100 persone entrano nella rivendita in un determinato periodo, momento, e 100 persone escono con l'ordine. Cioè, sarebbe eccellente. Qualcuno potrebbe dire cosa vuoi migliorare ancora. Eppure io sono convinto che si può e si deve migliorare. Perché se è vero che questa rivendita converte il 100% dei clienti che sono entrati nella sua rivendita, allora chiediamoci, quanti ce ne sono clienti all'esterno della rivendita, che non sono clienti nostri, che non sono entrati nella rivendita, che forse neanche sanno che tipo di prodotti ho, che forse non sono così attrattivo verso questi clienti. Allora la prima sfida da fare e da vincere è proprio quella. allargare, attrarre nel mio punto vendita tutti i potenziali clienti che sono attorno e che non sono venuti da me. Però uno dice, ok, devo trovarli però questi clienti. Dove stanno questi clienti? Per andare a prenderli uno a uno e portarli da me, dove stanno questi clienti? Fino a ieri stavano un po' dappertutto. Anche oggi stanno un po' dappertutto. Ma oggi c'è un punto, una situazione, una location, mettiamola così, un atteggiamento, un momento, dove voi li potete trovare tutti. Stanno qua. E anche qua. E se qualcuno non è d'accordo lo sfido. Voglio vedere se qualcuno non usa i social quando è seduto lì la mattina. Sono qua i clienti. Sono qui quelli che noi dobbiamo andare a prendere. Sono qui e sono a nostra disposizione. Perché stanno lì. Stanno, come dicono in Francia, cazzeggiando col cellulare, però stanno leggendo qualcosa. Quindi i social sono importantissimi per la vostra attività. Certo qualcuno potrebbe dirmi, ma io ho un bel sito. E io dico, bravissimo. Ottimo, perché il sito è la tua vetrina. Tu devi far vedere sul tuo sito la tua azienda. Ma sapete la differenza minima, sostanziale, che però dobbiamo riflettere qual è? E che il sito sceglie il cliente di andare a visitarlo. E' lui che in quel momento ha un interesse e va sul vostro sito, se se lo ricorda, altrimenti va su San Google e San Google gli propone tutto quello che vuole. Se vuole cercare un prodotto, è lui in quel momento che sente quell'esigenza. I social no. I social la generano l'esigenza. I social sono loro ad andare a cercare noi clienti. Sono loro che vengono da noi. Quando io sono seduto sul mio divano, che sto giocando per cercare di perdere un po' di tempo, rilassarmi, io mi vedo passare davanti, non lo so, una ceramica, un bagno, un trapano, una finestra. Metteteci quello che volete voi. Probabilmente in quel momento non ho bisogno di quel prodotto. Ma il mio cervello, come il vostro, lavora per immagini e memorizza l'immagine. E se domani io avrò bisogno di quel prodotto, cosa fa il vostro cervello? Va a inventarsi il prodotto? No. Va a scavare nel mio archivio e dice, porca miseria, da Oranges, da... Adesso potrei mettere tutti i nomi. Ho visto quel prodotto, l'ho visto mentre scrollavo con il cellulare. Capite cosa vuol dire, quanto è importante. Allora non solo dove sono, cerchiamo di capire quanti sono. Questi sono i numeri. 50 milioni di italiani sono connessi ogni giorno. Connessi non sui social, connessi in generale. Questi sono gli ultimi dati, le ultime statistiche di gennaio 2024. Su 59 milioni di italiani, ben 50, sono connessi in qualche modo con la rete. Ma se vogliamo scendere e andare nel nostro caso, 44 milioni di italiani sono fuori sui social che aspettano voi. Sono lì. Bisogna solo andare a prenderli. E per fare questo è importantissimo che i social vengano utilizzati dall'imprenditore, da chi crea la pagina, ma anche dai vostri dipendenti, che sono i migliori ambassador. Il dipendente è il miglior ambassador. Se un sito o se una società, una rivendita, ha una sua pagina e promuove un prodotto, pubblicizza un prodotto, ha un valore, ma ha un valore intrinseco alla sua pagina. È lui che sta dicendo, vieni da me che ho il miglior prodotto del mondo. E d'altronde uno dice, vabbè, è chiaro, lo dici tu, che è il migliore, ma se lo fanno i vostri dipendenti, è come quando voi andate a comprare la carne dal salumiere, dal macellaio. Che cosa vi dice per convincervi? Vi dice, guarda, è buonissimo, l'ho mangiata io. E voi vi fidate, perché lui ha messo la sua faccia. E questa è la sfida vostra, convincere anche i vostri dipendenti, quindi allargare l'utilizzo dei social anche con i vostri dipendenti. Questo significa, in definitiva, migliorare adeguandosi alle esigenze moderne, o quantomeno cogliere le opportunità che ci possono essere in questo momento. Vado veloce, perché, come ho detto prima, io devo solo stimolarvi a delle riflessioni. E allora quali sono in questo momento le nuove opportunità che ci sono per un rivenditore? Ne abbiamo parlato oggi. Si chiama PNRR. PNRR, per un rivenditore si chiama PNRR, ma attenzione. Il PNRR ha dei numeri che sono veramente incredibili, 221 miliardi. Io non so neanche come si scrivono. Non lo so, non so se voi siete capaci di capire quanto vale 220 miliardi. Io, per darmi a me un metodo di misura, l'azienda con cui ho collaborato fino a ieri, che è una grossa azienda, non faccio il nome, ma è un'azienda che ne fattura 4 in tutto il mondo, con 100 stabilimenti. Allora capite che è 220, dici, porca miseria, ma quanti sono 220? Ora è chiaro, voi mi direte, ci sono le grandi opere, che magari la rivendita è un po' lontana. Vero? Non direi. Non direi. Se io formo i miei collaboratori per andare a scovare questi cantieri, probabilmente li vado a prendere ancora prima che vadano a finire da altre parti. E qual è la differenza? Sostanzialmente, il super bonus, faccio questa riflessione, lo chiedo a voi, io ho una mia convinzione, ma non vorrei imporla. Quindi la giro come domanda. Il super bonus fino a ieri è transitato quasi normalmente dalla rivendita, senza nessuno sforzo, diciamocelo tra di noi. Ci hanno chiesto i prodotti e noi li abbiamo venduti. Così è successo. Siete sicuri che il super bonus farà la stessa cosa? Siete sicuri che i prodotti dei cantieri del super bonus transiteranno naturalmente dalla rivendita? O è importantissimo invece che la rivendita sia attrezzi per andare a prenderli questi cantieri da dove stanno? E guardate che ci sono tantissimi siti, vedete, a disposizione. Io ve li ho messi lì, ma ce ne sono tre, ma se ne potete trovare quanti ne volete. Voi da questi siti potete andare a trovare anche il vostro comune. Se andate lì, scrivete comune di La Mezzia Terme, vi è scritto tutti i progetti che il comune di La Mezzia Terme ha presentato. E vi dà anche lo stato dei progetti. Vi dice anche se sono stati già appaltati. E quindi voi avete a disposizione anche il nome dell'impresa per andare a cercarla. Lasciamo un attimo le grandi infrastrutture che apparentemente, ripeto, ma solo apparentemente possono essere lontani da noi. Avete visto nelle vostre piazze per caso questi lavori? C'è qualche comune che sta facendo delle piste ciclabili? Tutti. Perché sono i fondi più facili da prendere. Sono meno impegnativi a progettare le piste ciclabili che un edificio. Questo è solo un esempio. Qua, su questo lavoro, una rivendita qualsiasi, può vendere di tutto. Di tutto. Io faccio una sfida, lancio una sfida, dico qualcuno di voi all'interno della propria rivendita ha le resine per le piste ciclabili certificate. Se non ce l'ha, beh, capite che questo è un business, no? È un business che c'è lì. E ce ne sono tantissimi di questi lavori, ma veramente tanti. Stimato, l'abbiamo fatto proprio ieri, una stima raccogliendo proprio tutti, stiamo oltre i 40 miliardi. Tra transizione ecologica, transizione digitale, rientrano dappertutto. Non è necessario individuare solamente il canale. Rientrano dappertutto. E 40 miliardi, come dicevamo prima, sono tantissimi. Abbiamo parlato di attrarre i clienti. Una volta che noi abbiamo attratto i clienti nella nostra rivendita, con tutti gli strumenti che voi volete, poi dobbiamo conquistarli anche, no? Perché non basta portarli in casa nostra. Poi dobbiamo far vivere dal primo momento che mette il piede nella nostra rivendita un'esperienza positiva al cliente. E allora sapete qual è la prima leva da utilizzare per far vivere un'esperienza, per creare un rapport con il cliente immediato, proprio il primo, proprio la prima cosa da fare? Beh, oggi si è parlato molto di sostenibilità, se ne sta parlando di sostenibilità, di risparmio delle risorse del pianeta. Sapete qual è la risorsa inesauribile su tutto il pianeta? Non solo è inesauribile, ma più ne producete di questa risorsa e più se ne alimenta. Più ne consumate e più ne producete. È questo. È il sorriso. E questa è la prima risorsa che noi abbiamo a disposizione nel pianeta. E questo, il sorriso, riesce a creare un rapporto con il cliente immediatamente. Immediatamente. Se voi avete una trattativa in corso, accogliete il cliente in questo modo, da quel momento lo avete già più o meno conquistato. D'altro canto, noi siamo tutti clienti qua dentro, o meglio, scusate, venditori, no? Se volete. Ma siamo anche tutti clienti. Quante volte ci è capitato di entrare in un bar, in un ristorante, in un negozio, da qualche parte, e sentirsi ignorati? Capita anche a voi o solo a me? Non lo so, ditemelo. Magari sono io, colpa mia. Entra lì, dice, nessuno ti vede. Devi dire, oh, e sono qua. O magari addirittura qualcuno che ti accoglie, dica, dica, devo portarti i soldi, devo venire a portarti i miei soldi in casa tua e mi accogli con... Dica, se ti dicono così. O magari ti dicono subito... Sì, un attimo, un attimo, adesso sono impegnato, un attimo, ora arrivo. Capita solo a me? No. Capita a voi. E quanti conflitti negli uffici pubblici si potrebbero evitare, invece, col sorriso? Vi è mai capitato qualcuno... Scusate. Vi è mai capitato qualcuno di questi? Quante volte siamo andati in un ufficio senza neanche aprire la bocca? Quello ha detto, no, non si può fare. Non ho neanche parlato. Cazzo, adesso... Se mi sei un certificato... No, 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 è l'ufficio sbagliato, non devi andare... No, ma fammi parlare, almeno. No, no, non si può. E quanti conflitti nascono? Nascono perché manca il rapporto, manca il sorriso. Ora, sicuramente ognuno di voi si starà chiedendo, ma basta il sorriso per concludere una vendita? Ovviamente la risposta è no. Però il sorriso è importante per aprire una trattativa. Guardate, pensate un attimo, come metafora, alla cassetta degli attrezzi di un artigiano. L'artigiano, quando riceve una chiamata, prende la sua cassetta degli attrezzi, la riempie, si assicura che ci sia dentro tutto, tutti gli attrezzi, e va a fare l'intervento. Ecco, il venditore è paragonabile, o meglio, il sorriso del venditore è la cassetta degli attrezzi dell'artigiano. Il sorriso è la cassetta degli attrezzi. Poi voi ci dovete mettere dentro tutte le leve, con la formazione costante. Tutti gli strumenti di vendita, tutte le leve di vendita deve avere il vostro venditore. Per poter utilizzare la cassetta, è come per l'artigiano. Una cassetta vuota non serve a nulla, un sorriso vuoto non serve a nulla, se voi non investite nella formazione dei vostri uomini e donne. È indispensabile questo. Parliamo della prima leva di vendita. Non abbiamo il tempo per enunciarle tutte. Quanti strumenti di vendita ci sono? Beh, ce n'è una che è la più importante, quella. Ascoltare il cliente. Non parlare, non me ne frega niente di quello che hai tu. Io voglio sapere quello che hai per me. Non mi interessa che tu mi fai vedere tutta la tua sala mostra e poi dopo, solo dopo, andiamo a sederci e parliamo. E scopriamo che tutto quello che mi hai fatto vedere, eh, non avevo capito che volevi questo. E me lo chiedevi prima, magari evitavamo di... Su questo vi racconto un piccolo aneddoto. Qualche tempo fa, io e la mia compagna dovevamo fare un regalo a un nostro amico che faceva 50 anni. Siamo andati in un negozio, io sono di Lecce, siamo andati in un centro a Lecce, in un negozio di pelletteria, di articoli anche tecnologici. Il venditore ci ha accolti, non mi ricordo neanche come, e ha detto, prego, cosa avete bisogno? dobbiamo fare un regalo, però non sappiamo, non abbiamo un'idea. Sarà capitato anche a voi. Se mi aiuti, magari riesco a trovare. Allora questo qui ha cominciato a dire, sì, per carità, abbiamo tanta roba, abbiamo questa borsa della... Nike, abbiamo questi... No, la borsa no. Abbiamo il portafoglio, ma no, il portafoglio no. Abbiamo la cintura, ma la cintura no. Abbiamo anche questo bellissimo portachiavi, ma il portachiavi no. Nel frattempo chiamano questo signore dalla direzione e mi fa, dice questo venditore, scusate, io devo andare, mi stanno chiamando, però vi assicuro che... Arriva subito un altro venditore. Arriva quest'altro venditore, stessa domanda, di cosa avete bisogno? È la stessa alla fine. Dobbiamo fare un regalo per il nostro amico, non sappiamo cosa, vorremmo avere da voi un'idea. Questo ci fa... Scusate, posso farvi qualche domanda per capire qual è la soluzione giusta, qual è il regalo più... Prego. Ci hanno guardati come mia moglie. Prego. E questo comincia a dire, quanti anni ha il vostro amico? 50 anni. Bene, è uno sportivo? Boh, sì e no. È tecnologico? Sì, sì, ma non proprio così avanzato. Dice dunque, vediamo, c'è qualche particolare ironico che ricorda il vostro amico? Ci siamo guardati, con mia moglie, è sbadato. Noi, nella nostra comitiva, al nostro amico non gli daremo mai le chiavi di casa. Mai. perché quello le perde sempre, tutte. Quindi mai. Questo va, dice, guardi, allora c'ho la soluzione per voi. Cosa ne pensate di questo portachiavi con un digitale satellitare? È un portachiavi, normalissimo, però c'è un chip satellitare che l'amico vostro, direttamente con un'app, lo scarica, in qualsiasi momento suona e scopre dove stanno le chiavi. Secondo voi cosa abbiamo fatto, noi, secondo voi, con mia moglie? l'abbiamo comprato, non uno, tre ne abbiamo comprati, uno per me, uno per mia moglie e uno per il mio amico, tre. Analizziamo bene cosa è successo però, analizziamo bene, il portachiavi è uguale, ce l'ho ancora qua, è lo stesso portachiavi del primo venditore, vi ricordate che mi ha detto che c'aveva un portachiavi? È lo stesso portachiavi, qual è la differenza, qual è stata la differenza? Che il primo ha venduto un prodotto, vuoi un portachiave? No, grazie, non mi serve, ce l'ho a casa, tutti hanno un portachiave in più in casa che aspettano che si rompa quello vecchio per prendere quello nuovo, l'altro non ha venduto il portachiave, ha venduto una soluzione sotto forma di portachiave. Capite qual è la differenza allora? Quando il cliente viene da voi, la domanda è quella che conta, perché con la domanda è lui stesso che vi dice quello che dovete fare, è lo stesso cliente che vi racconta di cosa ha bisogno. Basta saperlo ascoltare. Mi avvio, giuro che mi avvio alla conclusione. La seconda parte dell'intervento è vendere tutti. E guardate che non ho scritto a caso vendere tutti, perché sarebbe stato molto più intuitivo vendere tutto, perché sarebbe carino, ma vendere tutto, voi lo ottenete ascoltando il cliente, il cross-selling, vendere attorno a quel prodotto, lo fate col cross-selling, la vera sfida per un imprenditore, per tutti voi che siete in questa sala, ma anche fuori, è questa. Vendere tutti, trasformare tutti i propri collaboratori in venditori. Non può essere solamente colui che vende il venditore, no, deve essere anche colui che sta al banco, colui che sta sul muletto, colui che trasporta i prodotti, colui addirittura che monta. E infine, anche l'amministrazione deve sentirsi un venditore, anche chi fa le bolle, le fatture, chi addirittura risponde al telefono. E sapete perché? Perché il cliente ricorda l'ultimo miglio, non il primo. se il cliente ha avuto un'esperienza eccellente col vostro miglior venditore, gli ha venduto i prodotti che lui voleva, l'ha soddisfatto tutte le esigenze, ma una, una sola di queste situazioni non ha funzionato, un anello di questa filiera non ha funzionato, per esempio, chi gli ha portato in casa i mobili, se sono mobili, chi gli ha caricato la macchina, chi gli ha fatto la fattura che gliel'ha sbagliata, e forse ci ha messo due mesi per avere una nota di credito, chi ha risposto al telefono semplicemente per dire prego di cosa ha bisogno, e gli ha fatto girare sette persone senza trovare mai la soluzione, allora capite bene che quel cliente non ricorda il bravo venditore, ma ricorda l'ultimo miglio, e sapete cosa dirà? Dirà quel negozio è eccellente, per vendere sono bravissimi, peccato che poi per avere una risposta devi stare altri tre mesi, è questo che voi non dovete correre il rischio, ecco perché noi dobbiamo trasformare tutti i nostri dipendenti in veri venditori, tutti, tutti devono sentirsi parte integrante della vendita, perché l'ultimo miglio, ripeto, è quello che ricorda il cliente, e oggi voi sapete che ci sono tantissimi, dal covid in poi, nessuno di noi compra qualcosa se prima non è andato a vedere le recensioni, qualsiasi cosa, anche se siete nel negozio, lo faccio io, se sono nel negozio mi piace un prodotto, cosa faccio? Vado sulle recensioni di Amazon per vedere se è buono questo prodotto, se hanno detto che va bene, allora capite bene che per voi è molto importante poter avere una recensione non del bravo venditore, ma dell'azienda, l'azienda ha soddisfatto tutte le esigenze, compreso la fattura sbagliata, compreso lo specchio rotto, compreso tutto, compreso il reso, compreso tutto, perché chiudo con una slide che mi ha fatto molto piacere i nostri amici polacchi l'hanno utilizzata e giuro che l'avevo già preparata, quindi non è che l'ho copiata, vi lascio così, questa è la vera filosofia di tutti noi, che come diceva Bubbio, il professore che non vedo ma c'era, non è che il cliente ha ragione sempre, può anche avere torto, ma il cliente però è colui che sceglie se lasciarci vivere come azienda oppure no, o se sposta i soldi da me a un'altra parte e in quel caso licenzia tutti dal titolare fino all'ultimo del carro, mettiamola così. Grazie mille per l'intenzione. per l'intenzione. Grazie mille Grazie mille